ciao a tutti i miei cari nipoti non so se oggi risulto molto credibile con chat in questa maniera ho appena finito di pulire l'appartamento che affettiamo qui ai turisti e bene sì faccio anche quello una volta avete detto ma non ce la faccio adesso ho superato anche questa paura comunque volevo fare un video molto veloce per dirvi questo solo un medico un professionista possibilmente iscritto all'ordine può dirvi che avete dei problemi di peso sia o in sovrappeso o che addirittura dovete prendere del peso questo perché sento molte persone mi scrivono ma anche leggo attentamente i vostri post non sempre partecipo magari per questioni di tempo così però li leggo volentieri spesso con tenerezza perché vedo persone che scrivono mi dicono che devo perdere peso o che devo prendere peso e io capisco che le persone vicino a noi lo facciano di consigliarci in maniera benevola perché perché spesso sono parenti amici conoscenti che percepiscono che forse abbiamo qualche problema col corpo però io per dare un taglio anche assettico anche al mondo fuori perché certe volte sentiamo tanti consigli che magari noi non richiediamo neanche che possono farci star male per nulla sapete perché perché succede spesso che il parere medico il parere clinico non sia sovrapponibile al parere che ci danno persone fuori amici conoscenti che lo fanno con le migliori intenzioni ma appunto non sono dei professionisti io vi racconto la mia esperienza personale mia madre è sempre stata molto magra tant'è vero che io combattevo col mio fisico mia madre a 40 anni quindi ben più vecchia di me aveva prendeva pasticche di fieno greco per ingrassare quindi pensate l'invidia mia e invece poi col tempo ovviamente il metabolismo rallenta adesso mi ha una certa età ha messo su un po di panzetta sull'addome pur non essendo comunque in sovrappeso allora grande dilemma tra mia sorella chi glielo dice perché a quell'età la si narra che può essere problematico per il fisico bene io mi sono rifiutato sapete perché perché venendo da un disturbo alimentare so benissimo che qualsiasi rimarco sul fisico anche fatto la persona più forte la persona più risolta più risoluta può rompere l'equazione della nostra autostima è così è così può far male per cui io mi rifiuto categoricamente di dare pareri anche minimamente clinici sul fisico degli altri casomai posso dire a mia madre hai fatto le analisi del sangue non lo so prenderla ma non l'ho fatto ho preferito lasciare che lei prendesse decidesse cosa fare del suo del suo corpo mia sorella invece gliel'ha fatto notare con benevolenza e mia madre è andata a farsi vedere dal medico di famiglia con dati alla mano con dati alla mano perché il medico non parla anche quello di base non parla per così per sentito diro perché guarda da una foto di facebook dice il medico parla con dati alla mano e ha detto mia madre che era perfettamente in linea con con i dati tipici di salute insomma di quella persona con l'età con quel peso con quell'altezza surprise surprise quindi io quando le persone si esprimono adesso intanto togliamo spazio ai bullismi di vario tipo del sei grassa sei ripeto solo un professionista iscritto all'ordine può dirmelo anche un medico che mi lo dice da facebook io non ritengo che sia professionale perché un medico si basa sulla scena su dati scientifici e io come persona poi sono abbastanza adulta credo nella scienza in tutta la scienza italiana in istituzioni italiane i medici italiani di qualsiasi di qualsiasi tipo di qualsiasi con qualsiasi specializzazione perché so che sono medici bravi che poi magari abbiamo trovato quello che fa per noi non importa faremo un percorso anche di ricerca del nostro professionista quindi il mio messaggio di speranza credere di più nella scienza e meno nel parere che ci viene dalla persona che magari non è certificata è un amico che ti vede ma che non so ci vogliono dati alla mano quando a me viene detto tu sei troppo magra io dico beh può essere ma io me lo dirà un medico se devo ingrassare oppure ancora peggio non sei guarita tu pensi di essere guarita non sei guarita allora io faccio sempre presente che io adesso rispetto a quando mangiavo vomitavo chiusa in un cesso un 4 5 volte al giorno non vedendo nessuno non parlando con nessuno odiando il mondo intero adesso sono un'altra persona quindi magari non sono guarita totalmente clinicamente però si ammetto per me questo è un po l'anno zero e quindi la mia guarigione è anche una cosa che io decido ad un certo punto che io accolgo nella mia vita poi il resto del 20 per cento lo faremo pian piano con un percorso psicologico e magari per dieci anni ingrasserò però questo che io non sono guarita non me lo può dire la persona che arriva da facebook che non mi ha mai visto non mi conosce e soprattutto non abbatti alla mano o che non è certificata o che non ha nessuna afferenza afferenza con l'ordine dei medici i pareri di questo tipo sei sovrappeso sei sottopeso non sei guarita devi farti curare devi fare una dieta ve lo può dire sono un professionista e soprattutto mi prescriverà se avete bisogno di una dieta veramente una dieta bilanciata che non esclude tutti i tipi di cibi e alla fine vi troverete che probabilmente il peso che dovete perdere molto meno di quello che voi pensate e questo ci sicuramente ci farà stare meglio nel lungo periodo perché mi rendo conto che il sei grassa o sei sovrappeso detto da amici familiari parenti non è non è il massimo sempre un messaggio positivo messaggio di speranza credete nella vostra asole del vostro medico andate sempre dai professionisti non fate come me vi tirerete fuori dai vostri problemi col vostro corpo molto prima di me vi bacio ciao